Andare a letto molto presto, prima delle nove, e svegliarsi all'alba senza apparentemente un grosso sacrificio. È una routine più comune di quello che si è pensato finora ed è legata ai geni. Secondo uno studio dell'Università della California, pubblicato sulla rivista Sleep e riportato da Ansasalute, questa particolarità riguarda un adulto ogni 300. Le persone colpite hanno l'orologio del corpo, il cosiddetto ritmo circadiano che si mette in azioni in anticipo provocando forti rilasci di melatonina, l'ormone che conciglia il sonno già nel pomeriggio. Si tratta di una cosa diversa dall'iniziare a svegliarsi prima con l'invecchiamento o dai frequenti risvegli nel cuore della notte a causa ad esempio di patologie come la depressione. A chi ha questa particolarità inoltre bastano dai 5 ai 10 minuti di sonno in più nei giorni non lavorativi per recuperare, mentre normalmente ne servono circa 40. Ma avendo sonno presto è più difficile prendere parte ad eventi la sera in cui si fa tardi, spesso importanti per la socializzazione. Per studiare il fenomeno il dottor Luis Pacek insieme ai colleghi delle università dell'Outa e del Wisconsin ha analizzato i dati di 2422 pazienti in una clinica per i disturbi del sonno per nove anni. Sono state trovate 12 persone che soddisfacevano i criteri di screening per questa cosiddetta fase del sonno avanzata, precoce, monitorando il livello di melatonina, registrando le onde cerebrali, i livelli di ossigeno nel sangue, le frequenze cardiache e la respirazione. Quattro non hanno voluto far parte dello studio, quindi l'attenzione si è focalizzata su otto. Gli autori ritengono che la percentuale di portatori di una variante familiare possa avvicinarsi al 100%. Tuttavia alcuni possono avere mutazioni cosiddette de novo riscontrate nei figli ma non in genitori o fratelli, mentre altri possono avere membri della famiglia con mutazioni non penetranti. Attraverso test genetici hanno scoperto che due di loro avevano geni legati alla fase del sonno avanzata.